Si è svolto presso il centro di educazione ambientale a Sanza il convegno dedicato al Monte Cervati come grande attrattore turistico della Campania. Alla presenza dei sindaci del comprensorio e del folto pubblico in sala, il governatore De Luca ha offerto pieno sostegno all'ambizioso progetto di valorizzazione della vetta più alta della nostra regione, ponendo l'accento sulla necessità di creare occupazione per i giovani, arrestando le fughe dal territorio ormai troppo ricorrenti negli ultimi anni. Lavoro ma anche servizi da offrire ai cittadini, come la banda larga e le attività culturali riguardanti le bellezze naturali di cui disponiamo, come le grotte di Pertosa Oletta, la certosa di San Lorenzo a Padula, la valle delle Orchidee a Sassano e per l'appunto il Cervati, con De Luca che ha promesso la costruzione di vie di comunicazione adeguate per raggiungere il monte, cercando con tutti i mezzi a disposizione di ottenere i 10 milioni di euro necessari per la realizzazione di questo sogno. Solo in questo modo potrà offrirsi ai turisti un pacchetto turistico unico adeguato. Innanzitutto questa sera abbiamo parlato di cose serie, abbiamo parlato di un grande progetto di sviluppo turistico del Vallo di Diano con l'obiettivo di uno sfruttamento pieno di una risorsa ambientale straordinaria che è quella del monte Cervati. Nel Vallo di Diano abbiamo la possibilità di mettere in piedi un pacchetto turistico davvero di grande livello, dalle grotte di Pertosa alla valle delle Orchidee, al monte Cervati, il più alto della Campania, alla Certosa Ipadula, abbiamo davvero un patrimonio ambientale straordinario a cui possiamo legare un grande progetto di sviluppo turistico di tutta quest'area. Ovviamente il turismo significa anche garantire i servizi, garantire la mobilità. Ci siamo impegnati a finanziare una strada per rendere fruibile il monte Cervati, sono 10 milioni di euro. Vediamo dove trovare queste risorse senza raccontare frottole, al limite facciamo due o tre lotti, ma questa sera abbiamo assunto l'impegno di rendere fruibile pienamente il monte Cervati.